va bene va bene come andiamo chat le giornate le sto passando così sostanzialmente al computer faccio gli appunti magari riguardo le lezioni che i professori lasciano su youtube così magari la mattina poi corro vado a correre non so se la mattina o pomeriggio ad esempio ieri mattina sono andato oggi invece sono andato di pomeriggio così cucino faccio le faccende di casa boys alla fine io ho sempre vissuto da solo quindi non mi cambia molto allora prima di tutto vi spiego cosa cosa facciamo questa sera avrete letto dal titolo che questa sera ci occupiamo del restauro della città allora questa modifica è stata fatta prima di tutto è già iniziata ok perché eravamo arrivati ad un punto in cui la città non aveva più continuità soprattutto alla parte del centro e quindi l'abbiamo modificata l'abbiamo iniziata questa cosa poi ci siamo presi un po di tempo perché il server è passato in 1.15 e quindi non non aveva senso continuare a lavorare e adesso possiamo terminarla sostanzialmente ciao barbo sono in registrazione editing se vuoi venire e sostanzialmente c'è da fare il l'aggiornamento del centro città ci sono un paio di cose da sistemare ce la prenderemo con calma così purtroppo ci sono un paio di brutte notizie la optifine ancora non c'è e quindi sono senza texture e senza senza shaders allora vi dico cosa facciamo questa sera o magari prima volete vedere un po le modifiche che sono state fatte chat ditemi vediamo da dove partiamo partiamo dal porto non so se l'avevate già visto il porto completo allora andiamo combustibile andiamo sul faro ok allora purtroppo non posso zoomare questo qua il porto come lavoro abbiamo disponibile anche il pescatore lì abbiamo una zona ancora da edificare questa qua è la nuova zona residenziale con la taverna vi ricordo che la taverna al posto delle case potete affittare le camere che costano molto di meno rispetto che costruire una comprare una casa passiamo qua in mezzo ok qua abbiamo un piccolo magazzino se passiamo di qua si arriva dalle case molte sono ancora in vendita insomma qua abbiamo altre case in vendita e di qua invece c'è la taverna questa se non erro è stata comprata sia appunto e queste pure qua abbiamo un piccolo parchetto e di qua abbiamo una casa che ahimè deve essere revisionata perché non è venuta proprio benissimo infatti da restaurare qua abbiamo il prossimo centro città che verrà fatto più avanti vi ricordo che questa qua è tutto il nostro lago centrale e qua abbiamo una torre di avvistamento che ho completato proprio qualche giorno prima di allontanarmi momentaneamente dal server da qua sopra vediamo tutto praticamente la torre di osservazione è stata fatta proprio per questo per avere un buon punto di vista come potete vedere tutti i tetti della zona residenziale centrale sono stati rifatti per somigliare a quelli delle strutture principali per coloro che non lo conoscessero questo qua questo edificio qua è l'ambasciata l'ambasciata di z che è un'altra città quello lì invece il nostro municipio e tra parentesi dovremmo probabilmente aggiornare la mappa no la mappa non è da aggiornare si è da aggiornare ok mappa aggiornata qua abbiamo il centro città con il palco questa casa qua è da abbattere sarebbe il botanico comunque ragazzi voglio farvi notare che il server è parecchio stabile anche se hanno appena fatto l'aggiornamento questa qua sarà una nuova zona che ci servirà per congiungere sostanzialmente lo stile di costruzione dalla sopra a qua e tutta questa zona dove siamo adesso andrà sistemata o rifatta il botanico botanist scusate non so come si traduca in italiano verrà spostato qua e faremo una piccola zona con magari oddio ci starebbe fare l'apicoltore ciao franci seguimi adesso seguimi ti porto dalla zona delle farm qua potremmo fare effettivamente l'apicoltore ora che ci penso e di qua non dovrebbe essere cambiato nulla ma vi faccio fare un tour comunque abbiamo l'allevamento sia di polli che di maiali la serra la vigna che sale per parecchio e andando di qua avevamo teoricamente pulito la zona per aiuto per fare delle nuove costruzioni ma evidentemente si ci siamo dovuti fermare qua abbiamo la farm di canna da zucchero alcuni campi coltivati il fabbro di qua abbiamo invece allora uh uh fuck c'è troppa gente campo dei carbonai non voglio schiattare quindi vado a prendere subito del cibo qua c'è la noria la cava cattedrale o chiesa chiamatela come volete questo qua è il boschetto della chiesa e dovremmo esserci sostanzialmente ora franci ti faccio vedere le farm quelle vecchie semi automatiche dove sono andate a finire ah ok le già trovate allora si puoi coltivare tranquillo quanto sai no come come fare e bom direi che ci siamo con il tour se avete delle domande specifiche fate pure io direi che posso iniziare a cioè posso continuare in realtà a costruire oh mannaggia sole c'è solo un dio e si chiama mattone no l'avevamo fatto nella scorsa live il dio mattone ragazzi ah qua sotto abbiamo un'altra zona che magari degna di nota ed è il portale per il nether non l'ho fatto io l'ha fatto qualcun altro credo gafo fatto un ottimo lavoro quindi l'ho lasciato dobbiamo prendere un po di pietra siamo anche a corto effettivamente quindi magari dopo dobbiamo andare a fare un po di mining intanto dato che prima mi avete fatto voi la domanda come sto occupando questo tempo in casa ditemi voi come occupate questo tempo in casa cosa combinate se siete chinati sullo studio oppure se semplicemente non non sapete cosa fare ho sentito di persone che si stanno annoiando a morte cerco di fare più o meno sempre il tutto un po più come si può dire raffazzonato per fargli sembrare effettivamente dei muretti ok c'è tutto nella hotbar si tranne l'ester c'è tutto così però possono salire quindi io farei questo modo bene franci guarda se riesci a fare più o meno lo stesso risultato cioè un muretto molto frastagliato magari che ne so da quale parte no mi sa che sono già stati fatti dappertutto il resto si allora se vuoi arare già i campi dentro e mettere l'acqua mi fai un grande favore poi tutta questa zona qua è oddio volevo dire estetica ma in realtà non è solo estetica perché le persone possono cioè soprattutto se sono farmer possono coltivarla questa zona anzi dovrebbero teoricamente coltivarla ok e direi che ci siamo yes non ho visto ok il pagamento c'è qua ho fatto una cagata va bene ora dobbiamo preparare i campi e iniziare a piantare e vi faccio vedere subito come facciamo l'illuminazione perché noi stiamo togliendo le torce teoricamente l'illuminazione la facciamo così e mentre Franci continua grazie mille ma se uno si fa una casa poco lontana dal villaggio cosa gli fai? bisogna vedere quanto è vicino al villaggio e se è in una zona che pianifichiamo di edificare cioè anche se ancora non l'abbiamo claimato questa qua è il nostro territorio oddio potremmo anche semplicemente raidargli la casa quindi cioè a quanto mi riguarda uh sapete cosa facciamo? in quel in quel campo lì c'è una cosa diversa facciamo un campo fiorito e no non intendo le mine intendo con solo i fiori facciamo guardate fiori e alberi facciamo di qua l'uscita e qua facciamo la strada ok adesso che teoricamente i campi sono fatti Franci se vuoi farmi un ultimo favore poi ti pago per quello che hai fatto per favore pianta in in quei tre campi in quei tre campi in ognuno una coltura diversa magari in uno mi metti patate nell'altro grano e nell'altro ancora ne so barbabietole per dire se mi vuoi fare questo favorone cosa ma farei un campo di addestramento per un esercito o per una milizia? l'idea c'era volevo farlo poi però ho lasciato stare perché l'ho visto come qualcosa non da fare subito però l'idea mi piaceva ragazzi performance assolutamente tutto ok decisamente oh finalmente un albero normale non mi convince andiamo un attimo questi alberi qua sono venuti proprio male cioè potevano uscire di tutti i modi sono usciti proprio di merda vediamo se magari facendole un po' più eh quoto a cazzo di cane viene meglio ma difficile eh deve venire peggio dai mi lamento ok interna e ancora qualche fiore cosa sto facendo? allora adesso mi sto occupando di questa zona centrale che è puramente estetica e sono i campi di questa fattoria questo qua è un campo di grano credo quello lì dovrebbe essere di patate o di carote e quello rispettivamente patate o carote questo qua invece è un campo fiorito ma non di mine con fiori e alberi e poi ci dovremmo occupare di tutta questa parte qua che magari saranno strade ancora o semplicemente ai uole con alberi una zona residenziale ad alta concentrazione al massimo c'è già sì allora c'è questa qua che è la zona centrale ciao Liran questa qua che è la zona del centro città dove ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei sei case sì ci sono sei case mentre dall'altra parte del fiume scusate del canale cioè laggiù ci sono cinque case forse non lo so ci dovrebbero essere cinque case più la taverna e la taverna è ad alta concentrazione concentrazione ehm desità teoricamente una volta finita questa zona che stiamo facendo adesso sembrerà simile a adesso ve la faccio vedere quale ah devo salire un attimo sulla gru ok a questa qua quella lì è la è la fattoria e lì a tutti attorno ci sono i campi con le zone strade cose del genere quindi adesso spargiamo un po' in giro i braceri e ci occupiamo delle ruole va bene direi che è abbastanza illuminato anche qua mi sembra più ben illuminato magari io qua un'altra lanterna ce la metterei oddio in realtà ci stava anche sotto l'albero carlos è il topo che gira questi non te li aspettavi di oh grazie mille l'orchicco gentilissimo grazie mille grazie molto apprezzato almeno lui non bestemmia con le donazioni ringraziolo ancora si sei te l'animale Luke però ti vogliamo bene anche per questo che schifo la gente che non bestemmia con le donazioni ah smettetela mi ricordo che poi devo editarla io sta live allora di qua ci dovremmo essere anche di qua qua ci starebbe un albero sperando che esca bene va bene va bene dai poteva uscire molto peggio direi che siamo stati graziati per una volta se vengono gli alberi mostruosamente grandi non è un problema perché ci servono per la verticalità in questa zona ok fatemi prendere un po' di foglie vediamo cosa che speriamo che anche questo esca enorme normale ok speravo meglio va bene ok qua aggiungeremo un albero comunque qual'è il problema oh boy bella sta zona bella non so come sia uscito ma va benissimo ok qua magari gli alberi oddio ragazzi il lago lo facciamo qua un piccolo parchetto il problema è che dobbiamo abbattere gli alberi sorry vediamo un attimo il buco per il lago è entrato Kirk ciao Kirk no è troppo piccolo allora prima di tutto di qua facciamo così per spezzare un po' la linea togliamo le torce l'albero quello lì mi va benissimo che l'hai lasciato decisamente ci serve un po' di coarse dirt e basta un po' di coarse dirt e magari un po' di gravel se vuoi farmi questo favore Franci va bene Barbo dai vieni così magari mi dai una mano con la chat perché sto avendo un po' di problemi a starci dietro scusate che è quel piccione Kirk oh perfetto perfetto no questo è un po' meno perfetto aaa perché l'hai dovuto fare che l'hai dovuto fare aaa oddio ancora c'è Kirk che si diverte a fare l'uccello dai 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 non posso consumare tutto il bombier per dai oh meno male che è salito su come mi serviva senti ancora la voce della tua coscienza no va benissimo grazie mille risolto sono un cracker sei un cracker va a vendere Kirk è appena entrato va a vendere subito ragazzi Barbo farà il sindaco nel momento in cui avrà minecraft allora mancano davvero due stronzate ragazzi però mi devo pulire l'inventario vi faccio però una visuale aerea vi faccio una visuale aerea di quello che abbiamo appena fatto da dove da dove mi serve un buon punto di osservazione dove osservazionare credo che da qua vada bene ok non so se se avete la possibilità di riguardare com'era all'inizio all'inizio qua ragazzi era tutto piatto guardate com'è adesso abbiamo campi abbiamo vegetazione abbiamo strade abbiamo braceri è venuto davvero bella è vero ragazzi lui ha costruito anche le strade ci ha fatto anche delle cose buone dai smettila ci starebbe dicevo farci anche l'apicoltore lo spazio è un po' stretto eh ma non è impossibile vi devo dire non è impossibile perché hanno aggiunto le api? sì nella 1.15.2 sì proviamo proviamo a dormire un attimo perché se dobbiamo esplorare non posso partire così le opzioni sono rimanere a costruire il fioraio però ci servirebbero comunque le api oppure l'avventura ditemi chat ditemi aia devo vedere un attimo la mappa per vedere in quale direzione andare allora inoltre ci sono Kirk e Fenrir qua in zona ancora allora zoomiamo in uh sì ragazzi sì 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 è stata ampliata parecchio ok va bene va bene oh boy what is happening ah ok no a posto noi siamo dentro allora mappa 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 noi andremo a nord boys ci conviene andare a nord la mia reputazione clippate clippate intanto facciamo una mezza strage qua ci sono un po' di barbo va bene andiamo ma quando uno è nel server può costruire una città tipo Artotska certo che può e farci un bulag eh sì ti servono anche le persone da metterci dentro però ah quelle le trovo io è la parte divertente ok ragazzi dovremmo essere in zona nuova quindi proviamo a cercare dei degli albeari possiamo fare che in realtà il fioraio vende armi sotto banco certo se vuoi farete il fioraio presto no mi devo trovare una mansione più ambigua voglio cercare una flower forest cos'è una flower forest ragazzi io non la conosco dove sia dicono gold l'alveare si raccoglie col sick touch ma puoi anche fare il favo con la cera puoi anche fare il favo con la cera ragazzi allora voi fate il favo eh lo sapevo cazzo mi hai riciclato la battuta comunque ragazzi per ora puntiamo a trovarlo a prenderlo con il sick touch ce l'ho dietro prima di tutto dobbiamo trovarlo ne avevo un'altra comunque mi stai sfiancando api api trovate boys api trovate api ho visto delle api quindi sick touch picchino e qua ho visto quella galleria super bellissima c barbo l'ho visto è una passione per le gambe ape brrrrr ape d'asa brrrrr eccolo lì boys lancio un contest in chat spammate la battuta più brutta sulle api che conoscete e vedete un gran vincitore però una testa non esagerate binest perché ti porti il favo vuoto sono altre le parti da svuotare aspetta che ci siano le api dentro no no vi prego non ditemelo busy inside 0 di 3 ok va bene puoi fare un muro di cinta intorno agli alveari dove aspetti che le api entrino probabilmente adesso che a sera entreranno non aveva fatto tardi e vanno a dormire ok un'entrata dai veloce entra anche te merda brava brava entra entra ci siamo 2 di 3 sequestro di api persona scusa api ripete io me ne vado seguendo un api targata f z 5 1 8 z n devo andarci di notte perché quando ricevono i rifornimenti perché sennò al giorno preso da salto e così ormai è da ma almeno ci ha fatto i soldi 2 settimane salto dico salto ci ha fatto i soldi almeno io 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 barbo sto per piangere lo sai io sto per piangere io l'ho chiesto testimone lacciato l'ho chiesto se mi volevi invocare lo so infatti ti giuro sto per piangere seriamente allora Franci ci sta si può migliorare ma ci sta ci sta lo benissimo grazie mille ci vediamo presto ovviamente con i video e le live vi ringrazio davvero tantissimo tutti per avermi sopportato per queste 2 ore e mezza ringrazio per le visualizzazioni i sub e le donazioni siete stati fantastici così come tutti i follow noi ci vediamo presto e boh niente alla prossima e buonanotte bye bye ciao